la favola dell'arco magico che oggi racconteremo in una forma un po più breve parla di vittorino un bambino che da grande vuol diventare uno scrittore di successo anzi egli in fondo già crede di esserlo per questo è sempre molto critico verso i libri degli altri e prima che ne trovi uno che lo soddisfi ce ne vuole così il giorno del suo decimo compleanno si ritrova a scartare tutti i regali che ha ricevuto tra cui ovviamente tanti libri pazzeccoli bambinate idiozie io so far meglio so fare di più io metto storie molto più belle che un giorno verrà che anche io con i miei libri ma questo sarà capacità capacità sensibilità autenticità umanità necessità sensibilità volontà, qualità, novità, rarità e questo è il segreto per un attratore e uno scrittore di qualità io sono un bambino pareggio speciale io so pittorino ad un palio sucide io so madri grazie mi posso dare non vado studiare guardare non vado studiare io so vinto non vado studiare io so vinto io so vinto io so vinto è problema io so vinto grazie io so vinto Sensibilità, 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 sensibilità. Nell'odissea una nuova versione io scriverò in un modo migliore e la Divina Commedia di Dante io per intero farò nuovamente ed il Pinoglio che scrisse i collodi ed i manzoni e i promessi sposi Sandro, manzorro e tre moschettieri io parlerò molto meglio che ieri Scriverò L'armerò L'armerò Capacità 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 Sensibilità Autenticità Capacità Non so, le monopuntate che dà verrà Che ansiedilità Che è il mio famoso Aventicità Sono un bambino male Poi che dà un strumento in un'unnecessità La nostra sensibilità La nostra sensibilità Non so, le qualità Non so, le qualità Non so, le qualità E' preso un segreto Per un parlatore E' uno scrittore BASTA Apera 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 Apera